Perché tu quanti ne conosci di morti di covid? Cazzo non ci sono! Allora le prossime paginate di morti a Piacenza, a Bergamo, otto pagina... Vogliamo l'indirizzo! Vogliamo l'indirizzo di questi cazzi morti di covid! Un milione di morti nel mondo per covid, 36.000 in Italia e sono inventati. Sì, sì. Fa anche averla, però è così, però è così o c'è scritto andate a fanculo? Questa qua la portavano gli ebrei che venivano deportati nei campi. Lei si paragona agli ebrei portati nei campi di concentramento? È certo! Hai la fine di Galeasto Ciano! Lo sai chi era Galeasto Ciano? Era il genero di Mussolini! L'ha fucilato Mussolini! Non mi fucilate? Non mi fucilate? Quelli che ha firmato la liberatoria al medico curante perché non volevo essere curato tramite il piano assassino del Ministero della Sanità. Ho avuto il covid, sono stato curato per fortuna con le medicine giuste, l'azitromicina, l'idrossiclorochina e le vitamine. E sono guarito bene. Quelli che sono morti di covid sono morti perché li hanno lasciati a casa nel letto a diventare blufi che non riuscivano a respirare. Poi li hanno portati all'ospedale e li hanno ammazzati.